Lei è Carmen, una delle migliaia di ragazze che ogni giorno battono le strade di Bucarest, in Romania. In questa città, alla periferia dell'Europa, un numero incalcolabile di donne vende il proprio corpo per pochi euro. Moltissimi degli uomini che volano verso Bucarest in cerca di sesso a vasto costo sono proprio gli italiani. Qui il turismo sessuale genera un indotto da centinaia di milioni di euro e basta prendere un taxi in aeroporto per rendersene conto. In pochi secondi e il nostro tassista c'è un pochino. Il turismo ci porta davanti al palazzo e una volta dentro a indicarci l'appartamento è il portiere stesso. Saliamo su. E ad accoglierci ci sono due ragazze seminude che vanno subito al sol. Ci sono due ragazze seminude che vanno subito al sol è un pochino di euro e un pochino di euro. Quindi un pochino di euro è un pochino di euro? Un pochino di euro, sì. Ok. Tre ragazze sono possibili oggi? Sì. Ok. Perciò un pochino con Umberto, il mio amico, e il mio amico. Ciao. Ciao. Grazie. Arrivati in hotel, per iniziare a immergerci in questo mondo, facciamo la cosa più naturale, cercare su internet qualcuno di navigato a cui chiedere come funzionano le cose da queste parti. Pronto Laura? Sì. Ciao, sono Marco? Sì, sì, ho visto il tuo numero. Ah, ciao. Sei già in hotel? Sì. Ah, perfetto, ok, ti aspetto. Va bene, ciao. Ciao, ciao, tra poco. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, piacere. Ciao. Marco, molto piacere. E' un po' più alta. E' un po' più alta, sì. Tu che mestiere fai esattamente? Diciamo che sono una donna, quale offre un po' di divertimento ai uomini generosi. Dama di compagnia, non so come si dice in italiano. Dama di compagnia. Dama di compagnia. Tu sei a tuo agio facendo questo mestiere. Mi piace per i suoi effetti, hai capito? Secondari effetti. Per i risultati. I guadagni. I guadagni. Quante donne fanno il tuo stesso mestiere in Romania? Mamma mia. Non ti posso dare una cifra, ma diciamo che sono tante, tante. Più che secondo te in Italia, per esempio? Sì, di sicuro. Perché? Cioè qui è un business vero? Qui è un'industria quasi. Esatto, perché la noi vita non è facile. Laura ci spiega una cosa ovvia. In Romania c'è tanta povertà e prostituirsi purtroppo diventa una soluzione quasi forzata. Ora ti dico la mia storia. Prima ho lavorato in Italia, in un nightclub. Sono arrivata lì senza sapere niente, perché mi hanno promesso altra cosa. Che cosa ti avevano promesso di fare? Dovevo fare la... la badanti. Poi mi ha detto devi fare questo perché dopo avrai dei problemi. Oggi Laura, da donna libera e tornata a Bucharest, continua a fare questo mestiere e riesce a riderci anche su. E qui in proporzione guadagni quanto guadagnavi in Italia? Forse è meglio. Sono generosi gli uomini rumeni. Rumeni? Ma non parliamo di rumeni. Ti faccio un top, ok? Primo posto, mi dispiace che lo dico, italiani. Ah, noi siamo i primi, siamo i più. Mi dispiace, è la verità, non posso dire niente. Un italiano di 70, 80 anni, quale viene? Ma tu hai clienti di 70, 80 anni? Ma certo, sì. Loro cercano di provare loro stessi che sono ancora giovani. E poi sono giovani? No, sono curioso. Non sono giovani. Cosa puoi fare quando uno di 70, 80 anni? Ma perché gli italiani vengono in Romania? La prostituzione del resto è un fenomeno presente ovunque. Perché è facile, puoi trovare donne a qualsiasi prezzo, a qualsiasi posto, a qualsiasi ora. Come in Italia trovare un automatico di sigaretta per comprare un pacchetto di sigaretta. Quest'uomo è uno dei tanti italiani che vengono in Romania proprio per cercare sesso a basso costo. Se io volessi una donna, cosa dovrei fare qui? Anche la ricerca di un hotel di ogni giorno, perché loro prendono una parte, prendono il 20%, c'è il pappone che l'accompagna in macchina all'hotel, come se fosse una vendita all'astra di qualcosa. Provare per credere. Andiamo a chiedere alla reception del nostro hotel. Hai parlato di massaggio? Un'ora? Sì, esatto. Un'ora? Un'ora? Un'ora, sì. E in effetti, circa un'ora dopo, non una, ma due ragazze accompagnate da un uomo entrano in hotel, passano davanti alla reception senza fermarsi e... Oh, hello, hi. How are you? Hi, nice to meet you, please. Hi, nice to meet you. E quindi imbarazzo di dover scegliere una delle due. You like my friend? Uh, yeah, it's okay, yeah, sure, she's very nice. Thank you, sorry, uh, I'm sorry, because I choose one. Uh, yeah, it's okay, yeah, sure, she's very nice. So, what's your name? Where are you from? Italy. Italy, italiano, vero. Italy, no, no, no. And you, you're from Romania? Yeah. And what you do, I mean, in your life? I study, ginecologa, and now finish because no have money. Okay. So, you won't stay here with you? E adesso l'imbarazzo di dover dire di no. Bisogna accampare una scusa. I married and I don't really want to cheat my wife. Ah, okay. Lei capisce e io le chiedo di fare due chiacchiere. You are different. Why? Because all men fuck. Yes, I know that. You knew Italians, you met Italians. Much Italians. Come here. How many customers you need? Maximum six men per month for day. Six men? Six men for one day. Evelina. Yeah. The first time. Wow. My God. Psychical is very, very. But your parents know what to do? No. They don't know. My parents know. You look like a doctor. Yes. But not all are fortunate like her. We don't work in the street. No, because here is not good in the street. Qui a Bucarest migliaia di ragazze lavorano per strada e rischiano di finire nel giro del traffico di esseri umani, come ci racconta Settimio Sarateno, un giornalista che da anni si occupa di questo fenomeno. The girls are part of the big teams. They are forced to arriving in Italy. The people promise a good work, but when this girl arriving in Italy, the problem is totally changed. In queste strade e tra queste ragazze regna la disperazione più assoluta. E per rendersene conto basta approcciare una delle tante donne su marciapiedi. Hi. Hello. Hi. Hi. How are you? I'm fine. Fine. You want sex? Spieghiamo a questa ragazza che si tratta di un'intervista e lei accetta. If it's okay for you. Okay. So what's your name? My name is Carmen Simona. Since so long have you been doing this? Six years and a half. How old are you? 27. Can I ask you why you're doing this? Because I don't have to live with something else. I don't have to work all the time in the street. I've worked in the hotel, in the hotel. I'm the most cleanest in the hotel. For a sex oral, I can do 2 million. But in the street, I'm 50, 60, 70. Street life is very hard. It's very dangerous, because you don't know who you are driving, you don't know who you are, but you can attack you, you can sell you further away, you can make a lot of bad. Can I ask you if you use drug? My mom has been 4 years, 5 years. If I saw that my mother died from cancer at the hospital, I said that I'd prefer to die. But I don't have a family, I don't have a family anymore. And that's how I find it. I don't know how to say it. But it seems to me that I do this stuff, that I'm sorry to ask myself to ask myself if I have money for the second year. I don't know how to say it, but I need a little help for the second year. I'm with God.